Siamo contenti di ospitare Gustavo Oliveira nella nostra scuola. Abbiamo conosciuto Gustavo nel nostro percorso artistico delle ragazze durante un concorso e abbiamo preso accordi per che lui venisse ad insegnare presso la nostra scuola. Sta facendo un lavoro molto intenso sul corpo, sull'equilibrio e su quello che è il suo stile di danza contemporanea comunque molto personale e abbastanza unico dato il suo background. Peraltro Gustavo è stato nominato per più anni uno dei migliori ballerini al mondo e oggettivamente guardandolo ballare ci si rende conto del perché. Siamo davvero contenti di questo percorso e speriamo che possa tornare anche in futuro presso la nostra scuola. Sono Gustavo Oliveira, ballerino e coreografo, sono metà brasiliano e metà portoghese. Sono sempre in giro in tutta l'Italia, anche in Europa, in tutta parte a coreografare, da lezione e anche sono ballerino professionista. C'è questa invitazione di Monica, è stato un piacere perché mi piace troppo il suo lavoro. Sono una persona abbastanza seria, che mi piace lavorare davvero. Sono completamente contento e spero tornare qua per continuare un lavoro come pre-professionista per essere professionista.